Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, sino alle 17 possibili disagi sulle linee di Trenitalia per uno sciopero. La protesta comunque va sottolineato, non interessa le linee di Atac, Roma TPL e Cotral. Lavori pubblici, presentato il progetto di riqualificazione del piazzale di Portapia. I lavori interesseranno la viabilità, gli attraversamenti, la ciclabilità, gli installi dei mezzi Atac e i parcheggi fondi necessari alla realizzazione sono già stati inseriti nel bilancio di Roma Capitale e la progettazione definitiva e la successiva cantierizzazione avverrà nella prima metà del prossimo anno. Dettagli sul progetto di riqualificazione del piazzale di Portapia su romamobilita.it